Buongiorno dalla campagna, oggi ti faccio vedere come semino gli spinaci. Livelliamo bene tutto il terreno e formiamo le cosiddette porche. La porca praticamente è il pezzo di terra tra i due passelli, ovvero dove cresce la coltivazione, dove seminiamo la coltivazione. Allora, come ci dice l'indicazione sulla scatola dei semi, si può seminare da settembre fino a tutto febbraio. Le raccogliamo da novembre a aprile. Il seme è bello grosso, ora andiamo a seminare. Si semina a spaglio facendo un mezzo ventaglio col braccio per seminare. Questi sono i semi di spinaci. Si sono seminati abbastanza larghi, così non si danno noia quando crescono. Di solito in primavera, appena seminato, si ricopre con un pochino di terra, ma dato che il terreno è troppo umido, con il badile non riusciamo a ricoprire. Ovviamente è più facile se utilizziamo una seminatrice. Quindi l'importante è non far asciugare il terreno, quindi tenerlo sempre umido, di modo che i semi non asciughino. È passato un mese e mezzo dalla semina e ora vi faccio vedere a che punto sono gli spinaci che abbiamo seminato. Sono già abbastanza bellini, hanno già messo le prime foglie vere. Ora serve solo un pochino più di caldo e poi si daranno il via per la crescita. Il prossimo passaggio è quello di togliere tutte le infestanti. Infatti, come sapete, io non utilizzo diserbanti in nessun modo, quindi il passaggio successivo è quello di togliere tutte le infestanti, tutte le erbette che poi daranno fastidio alla coltivazione principale, in questo caso gli spinaci. Ma tranquilli che vi terrò aggiornati. Voi restate altrettanto aggiornati, scrivendovi al mio canale e accendendo la campanella delle notifiche. Scrivetemi qui sotto, commenti, critiche e anche qualche consiglio. Grazie, alla prossima!